Ben ritrovati da La C, ben ritrovati ai nostri telespettatori che ci seguono sui canali 19, 213, il nostro canale All News, 519 in HD, ben ritrovati a coloro che ci seguono anche via streaming sulla ctv.it, dal nostro sito web lacinews24.it e ovviamente da coloro che ci seguono grazie alle piattaforme Laci Airport presso l'aeroporto di La Mezzia Terme. Ora tocca alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali oggi in edicola, prima parte abbiamo visto la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, andiamo a vedere cosa pubblica stamani Repubblica, un'intervista al Ministro dell'Economia Paduan, bene Draghi ma non basta, ovviamente si tratta delle politiche della Banca Centrale Europea che si ripercuotono anche sull'economia italiana, poi politica internazionale, il giorno di Tsipras, l'Europa trema, intervista al Ministro dell'Economia, ora un piano salvabanche, poi Weidman, nuovo a fondo, mossa grave della BCE. Sempre rimanendo sulla prima di Repubblica, grande spazio e fotonotizia, la drammatica vicenda che riguarda l'ostaggio nipponico decapitato dall'Isis, l'Isis che costringe il compagno a mostrare la foto del cadavere, ostaggio decapitato, shock a Tokyo, il giornalista Kenigoto Yogo mostra la foto del cadavere di Aruna Yukawa, un ampio servizio a firma di Adriano Sofi, andiamo a leggere l'incipit di questo articolo, una variazione sul tema dell'orrore del sedicente califfato consiste questa volta nel macabro gioco su due uomini amici, erano comparsi alla sinistra e alla destra del boia in tenuto arancione, nel video che chiedeva 200 milioni di dollari, una cifra fatta non per trattare, anche perché un paese più cedevole del Giappone difficile trovarlo, e fissava un ultimatum, ieri sono ricomparsi uno vivo e uno morto. Sulla prima di Repubblica, anche in riferimento alle vicende prettamente italiane, l'editoriale del fondatore Eugenio Scalfari, a chi qualche mese fa domandava, ingrandiamo ancora un po' il dettaglio sull'inerente, l'editoriale di Eugenio Scalfari, a chi qualche mese fa domandava se dopo la condanna per frode fiscali emessa alla Cassazione con sentenza definitiva Silvio Berlusconi era da considerarsi ormai fuori gioco, le risposte di quanti si occupano di queste cose come osservatori imparziali erano quasi tutte affermative, sì, ormai è fuori, è politicamente finito e non solo per la condanna, ma perché delle promesse fatte, degli impegni presi con gli elettori fin dall'anno 2001 non c'è alcuna traccia, ha puntato sulle debolezze e la vicende oneria degli italiani e non sulle loro virtù. Continua il servizio di Eugenio Scalfari dice alla fine Berlusconi nonostante tutto questo è ancora in lizza, è ancora vivo ed è rimane comunque un personaggio fondamentale dell'economia italiana che anche in virtù, in vista del voto per il nuovo capo dello Stato continua ad esercitare un potere non indifferente. Sempre sulla prima di Repubblica il fantasma greco della Merkel relativa ovviamente alle vicende greche e alla sfida lanciata da Alexis Tsipras, siamo nelle mani dei greci, se oggi ad Atene prevarrà la sinistra radicale di Siriza e si formerà un governo guidato dal suo presidente quindi Alexis Tsipras cambierà lo scenario in tutta Europa, lo shock obbligherebbe i germani associati a scegliere. Andiamo al dettaglio dedicato all'inaugurazione dell'anno giudiziario, in particolare il riferimento alle infiltrazioni della Drangheta, i giudici della Drangheta si è presa tutto il nord, servizio firmato da due firme di punta di Repubblica quindi Liana, Milella e Meo Ponte e poi le vicende relative al governo Renzi, no al panino su Amato, niente terna, nome secco al colle, salgono le quotazioni di Veltroni, cesale Veltroni al colle, Grillo rifiuta le consultazioni, servizio di Francesco Bei, andiamo a leggere cosa scrive Bei sulla prima di Repubblica, nella partita del colle l'unità del PD per il segretario è un valore strategico, a Palazzo Chigi rigettano l'accusa di intelligenza con il nemico Berlusconi, anzi il sospetto di Renzi è che una relazione inconfessabile si sia stretta proprio tra i dissidenti del partito e il leader forzista con l'obiettivo di portare Amato al Quirinale. Sempre sulla prima di Repubblica abbiamo un pezzo dedicato alle vicende ucraine, strage di civili al mercato, Mogherini a Putin fermi l'orrore. Andiamo a vedere le pagine interne di Repubblica, le parole del governatore della BCE, del presidente della BCE Draghi, Draghi avverti i governi, dovete raddoppiare gli sforzi per le riforme, quindi il presidente della BCE creare una genuina unione economica, Gurria dell'Ox, la vostra leadership è ispirata, è illuminata. Poi qui il richiamo al servizio di apertura di Repubblica, Paduan, bravo Mario, ma non basta. Scendiamo ancora nelle pagine interne di Repubblica, Atene corsa al voto sotto gli occhi dell'Europa, Tsipras verso il governo, così finisce l'austerity, l'austerity dalle elezioni greche potrebbe scaturire un voto che cambierebbe in maniera sostanziale gli equilibri per ciò che tiene le politiche economiche europee, un voto che viene atteso anche in particolare dalla Germania, che risulta essere capofila di quel movimento che ovviamente impone ai governi politiche di austerity. Andiamo avanti sempre sulle pagine di Repubblica, taglio del debito, investimenti a rialzo, ingrandiamo il dettaglio, investimenti, rialzo di pensioni e stipendi, il piano che spaventa la Troica. Il programma ci sono, ingrandiamo ancora sulla, zoomiamo sul sottotitolo, il programma, ci sono 5 circoletti rossi tra le proposte di Siriza che hanno messo in allarme i funzionari, quindi restiamo alle vicende squisitamente greche, in allarme i funzionali della BCE e le cancellerie dei falchi europei, interventi fissati senza aspettare il sì dei creditori e che per Bruxelles potrebbero spingere il paese al default, quindi la Grecia al default e mandare in fibrillazione tutta la zona euro. Andiamo ancora, scorriamo le ulteriori pagine di Repubblica e concentriamoci invece sulle vicende squisitamente italiane. Renzi, fiducia al di sotto del 50%, Berlusconi riprende fiato e il PD resiste a quota 36. Interessante l'infografica che viene allegata da Repubblica a questo pezzo. Cosa dice Repubblica? Se ci fossero le elezioni politiche nazionali, lei quale partito voterebbe? Questa è la domanda del sondaggio che è stato proposto da Repubblica. Vediamo come i consensi del PD continuino a scendere in maniera sensibile rispetto alle stime dei mesi precedenti. 36,3%, la percentuale di gradimento del PD scende rispetto a dicembre, rimane immutata rispetto a novembre. Però guardate i dati riferiti ad ottobre, settembre e giugno 2014 e in particolare il dato afferente le elezioni europee. Gli altri partiti della sinistra, idem, registrano un calo. Vedete invece che anche Forza Italia rispetto all'Europa del 2014 perde circa un punto percentuale. Però il dato di gennaio, il dato di questo sondaggio proposto da Repubblica per gennaio, fa aumentare i consensi rispetto a dicembre e li mantiene pressoché in linea con le stime di ottobre e giugno. Vedete anche come si ha in sensibile crescita la Lega Nord e il progetto Salvini, percentuali sicuramente ridotte per gli altri partiti. Partiamo per esempio di Fratelli d'Italia o NCD, ma rimane comunque significativo il peso che assume sullo scacchiere nazionale del Movimento 5 Stelle, che benché continui a perdere diversi, qualche punto percentuale però il trend rimane sostanzialmente in linea con il dato dell'Europa, una leggera, leggerissima flessione. Andiamo avanti sempre con le pagine di Repubblica e andiamo alla vicenda drammatica che riguarda la politica internazionale. ISIS ha ucciso il mio compagno, entro due ore toccherà a me, sciocchi in Giappone per gli ostaggi, ma restano dubbi sull'autenticità del video postato su Twitter. Chiesto il rilascio di una aspirante kamikaze è detenuta in Giordania. E poi il prigioniero vivo mostra il morto, l'ultima variazione dell'orrore, un macabro gioco su due amici. Andiamo invece al giornale, vediamo come il giornale titola oggi la sua prima pagina, dedicata, titolo forte, dedicato all'emminente elezione per il nuovo Presidente della Repubblica, Zoom, il nome segreto di Renzi, il Premier. Sogna di portare al Quirinale il costituzionalista Desiervo, amico di famiglia e suo maestro. Berlusconi ribadisce noi decisivi, è il tema che era stato toccato nell'editoriale di Repubblica da Eugenio Scalfari. Poi martedì il nuovo incontro con il PD. Poi l'anno giudiziario, la guerra continua delle toghe contro il Paese che detestano. L'editoriale di Arturo Diaconale, già direttore dell'Opinione, Arturo Diaconale che si sofferma sulle vicende riguardanti la magistratura italiana, ultimo caso quello del procuratore Robledo trasferito, procuratore giunto di Milano trasferito per incompatibilità ambientali, è comunque al centro di un caso che si trascina da diverso tempo, in ragione del suo scontro con il procuratore capo di Milano, Vruti Liberati. Poi le manovre insufficienti di Draghi, istruzioni d'uso per il bazooka BCE manomesso dai veti tedeschi. E poi, approfondimento, l'Islam si fa odiare anche in Giappone, l'abbiamo visto poc'anzi, la vicenda dei due ostaggi nipponici, uno dei quali è decapitato e l'altro costretto a mostrare le foto del compagno morto. E poi la Germania dà lezioni a tutti, ma i suoi poveri crescono del 30%, quindi retroscena sulle politiche tedesche, sulla politica interna tedesca. E poi un pezzo di attualità molto particolare è determinato alla chirurgia applicata allo sport. Ecco, chirurgia per sportivi, occhio di falco e braccia di ferro, è il bisturi che fa l'atleta. Vediamo cosa scrive Gianluca Rossi, c'è chi lo chiama doping chirurgico, talvolta legale, talvolta dubbio. L'ultimo episodio riguarda il campione di golf Tiger Woods, che ha subito un'operazione alla cornea che migliora la vista e lo aiuta a cogliere più nitidamente le buche. Un incipit, poi nelle pagine interne c'è un ampio approfondimento su questo tema. Passiamo ora alle pagine interne del giornale. Pagine interne, vediamo cosa scrive il giornale riguardo le prossime, le eminenti consultazioni per la corsa al criminale. Al Quirinale il PD apre le consultazioni, Grillo lascia la sedia vuota. Martedì i democratici incontrano gli altri partiti per confrontarsi sul nuovo capo dello Stato. Il leader del Movimento 5 Stelle non andrà, il Premier è un buffoncello, faccia lui i nomi. E poi vediamo anche l'infografica del giornale che richiama tutti i problemi che vive in questa fase il PD, quindi le primarie scandalo della Liguria, lo scontro sulle regole, i sondaggi negativi. Abbiamo visto anche quello pubblicato da Repubblica che non è certo un giornale berlusconiano. Poi un elettorato in fuga, sempre attraverso la lettura dei sondaggi. E poi una minoranza sempre più ampia, una fronda che ostacola il percorso del Presidente del Consiglio Renzi. Restiamo sempre su Repubblica, sul giornale. Ecco, vediamo chi sarebbe, secondo il quotidiano milanese, il prossimo Presidente della Repubblica nella desiderata del Premier. Il sogno segreto di Renzi è portare il suo maestro alla colle. Ugo De Siervo, zoomiamo sull'incipit del servizio, Ugo De Siervo è uomo che la s'allunga. Da giorni si sussurra che sarebbe lui Presidente della Corte Costituzionale per una breve ma significativa stagione, l'asso nella manica di Matteo Renzi per il quinirale. E lui che fa? Invece che limitarsi a schernirsi dicendosi fuori dai giochi, non all'altezza addirittura promettendo di dimettersi in caso di elezione, così fa per buona creanza, scaramanza e strategia, organizza il depistaggio addirittura scrivendoci un editoriale sulla stampa. Sul colle, scrive De Siervo, il titolo dell'articolessa che pur senza mai far riferimento all'ipotesi di una propria candidatura alla Presidenza della Repubblica, pure sembra una risposta ai boatos che lo riguardano e che non sono trascurabili. Si sa infatti che il Presidente Emerito Giorgio Napolitano caldegge un successore proveniente dalla consulta e potrebbe essere appunto Ugo De Siervo. Abbiamo gli ultimi minuti dedicati alla lettura delle notizie sportive. Vediamo cosa scrive la Gazzetta dello Sport, l'apertura dedicata alla partita tra Milan e Lazio. Sprofondo Rosso Nero, la Lazio ribalta il Milan, Inzaghi a rischio, Menezzi illude, i biancocelesti dilagano 3-1, Folliam Excess espulso, duro confronto nello spogliatoio con Gagliani, squadra e ritiro fino alla sfida, bis di martedì in Coppa, Pippo Inzaghi ovviamente, è una sfida decisiva. Poi la Juve, brivido viola per la Roma, quindi Roma e Juve, brivido Roma per la Roma, Tevez cerca la grande fuga, corsa a Scudetto, Juve a più 5 in casa col Chievo, Garzia rischia a Firenze contro la Fiolentina. E poi vedete questa notizia che sta facendo molto discutere, calci e pugni fuori quando Ronaldoro perde la testa. Il calcione che Ronaldo dà ad Edimar in Cordoba Real, lo vedete, la fotonotizia pubblicata appunto in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport. Poi restiamo ovviamente nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, ecco gli approfondimenti. Lazio Parolo, il calciatore della Lazio decisivo nella partita vinta per 3-1 dai calciatori capitolini, invece per il Milan soltanto parole. Pippo figuraccia all'Olimpico, dopo una settimana di accuse smentite e paure, i rossoneri crollano di fronte a Pioli. E poi, sempre restando in tema di calcio, in particolare di Serie A, Zola è già tornato in A, Cagliari ne ha i tre dietro. Il primo gol italiano di Copp condanna il peggior sassuolo dell'anno, il nuovo allenatore Vola sorpassato il Chievo, oggi in casa della Juve. E poi, scorriamo ancora, andiamo appunto a parlare di Juventus. Tevez gol è come trese gol, la Juve con lui progetta la fuga, Carlitos si ha 32 reti in 52 gare, al pari di treseghe e poco sotto Platini. I bianconeri gli chiedono di colpire il Chievo, a cui non ha mai segnato. Il sogno è il più otto dalla Roma. E poi, ancora, la Roma è la tela del Ragno Viola, con pianici in forse, i giallorossi più muscolari contro il giropalla della Fiorentina, quindi la forza fisica e atletica dei giallorossi contro il tiki-taka della squadra Viola. perché vedere Roma-Fiorentina, questo sommarietto della Gazzetta dello Sport, perché vedere Roma-Fiorentina, il giocatore che va più forte è quadrado, contro quello che fa andare di più la palla, cioè Totti, preziosa. I punti per la Roma valgono d'oro, la Fiorentina in panchina invece porta diamanti. e andiamo ancora avanti, vediamo l'Inter. L'Inter è il progetto Torir, prima di Iaia, un mediano subito, vertice del Presidente con Mancini, Auxilio e Fassone, a breve si stringe per uno tra Leiva, Motte e Diarrà, per l'estate dritti sul Livoriano, idee a destra, Darmian, Montoya o Widmer. E poi l'approfondimento della Gazzetta dello Sport sull'Inter, vediamo quest'altro sommario, gli acquisti dell'Inter in questa sessione di mercato, Podolski, Shakiri, Brozovic, Moriglio e per luglio. E poi continuiamo per, andiamo a vedere le ultimissime notizie, sempre dalla Gazzetta dello Sud, una curiosità dedicata all'asso ex, ormai asso francese, Eric Cantona. Lo ricorderete, uno dei gesti più discussi della storia del calcio, almeno nell'ultimo ventennio, questo calcione rifilato da Cantona ad un tifoso, Cantona vent'anni fa quel colpo di Kung Fu, una storia raccontata, ricostruita da Stefano Boldrini. E per la nostra Rassegna Stampa con questa ultima notizia è tutto. Vi ricordo l'appuntamento oggi alle 14.15 per una nuova edizione del nostro TG, TG Rassegna Stampa, che nella politica di rafforzamento avviata da quest'emittente, dal suo gruppo editoriale, ha deciso di essere presente sempre più puntuale anche la domenica. Vi rinnovo, l'invito a seguirci sempre per la Rassegna Stampa dalle 7 del mattino tutti i giorni. L'informazione con le nostre notizie più importanti comunque della giornata precedente ripartono sempre alle 6.30 con la nostra timeline. Per il momento è tutto e vi auguro una felice giornata. A presto. Visita il sito www.lacnews24.it Oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24. 7 giorni su 7. Sulla Calabria che fa notizia. Grazie. 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 Grazie.